Bene, facciamo un altro passo avanti nella comprensione della materia, della manipolazione della materia, utilizzando la quantità chimica, la mole. Riprendiamo le prese di chimica nel quale vediamo che siamo immersi nell'universo e l'universo è fatto di materia, la terra stessa è fatta di materia e la materia è fatta da miscugli di sostanze. La materia è fatta da miscugli di sostanze e le sostanze le consideriamo sostanze pure, quando sono fatte da particelle tutte uguali, col modello particellare. Ma dal punto di vista macroscopico le sostanze pure, in miscela, come si presentano? Si presentano allo stato solido, allo stato liquido, allo stato aeriforme, da che cosa dipende? Dall'energia cinetica, dal contenuto di energia. Ogni sostanza ha delle particelle che tra di loro, per forze di coesione, si attraggono, alcune sostanze con forze di coesione maggiore, altre con forze di coesione minore. Questo fa sì che alcune sostanze a una determinata temperatura sono solide, mentre altre sono liquide aeriforme. Ora però soffermiamoci sullo stato aeriforme, perché lo stato aeriforme, detto anche gassoso, è uno stato di aggregazione molto speciale. Ora i gas sono rappresentati in questo prezzo di chimica, in questa posizione, questo è il frame che riguarda i gas e le proprietà sono molto articolate, le vedremo in futuro probabilmente. Adesso soffermiamoci su questa proprietà, che è il principio di Avogato. Volumi uguali di gas differenti contengono lo stesso numero di particelle. Questa affermazione è rappresentata in modo semplice da questa figura del libro. Volumi uguali, due cubi, dello stesso dimensione, di gas differenti, ossigeno, cloro, contengono lo stesso numero di particelle. Riconosciamo essere molecole, qui sono rappresentate col modello a sfere, con penetrate, ma vediamo che ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Allora, questo si chiama principio di Avogadro, che portò Avogadro ad ipotizzare la natura molecolare delle sostanze, cioè che ogni sostanza corrisponde una molecola e che la molecola può essere biatomica, ma anche triatomica, poliatomica. Questo concetto, ipotizzato da Avogadro nel 1911, in realtà non fu accettato dagli altri scienziati, ci furono molte resistenze. Fu Stanislao Cannizzaro, parecchi anni dopo, circa 50 anni dopo, al congresso di Karlsruhe nel 1860, a dimostrare l'intuizione di Cannizzaro, cioè che le particelle sono molecole, le particelle che identificano la maggior parte delle sostanze sono molecole. Ora però non ci soffermiamo su questo, quanto sul fatto che volumi uguali di gas differenti contengono lo stesso numero di particelle. Questo vuol dire che fisicamente, a livello macroscopico, se noi prendiamo una bombola vera, piena di cloro, è un'altra bombola vera, identica alla bombola, piena di ossigeno, essendo identiche le bombole e mantenendo i gas alla stessa pressione e alla stessa temperatura, queste sono le condizioni, noi possiamo affermare che contengono lo stesso numero di particelle, anche se possiamo non conoscere, possiamo ignorare quante sono. Ora in questa figura vediamo che sono 5. Nella realtà possiamo anche non sapere quante ne sono, ma possiamo affermare che sono in ugual numero. Questo significa che se noi dividiamo la massa del gas cloro al numeratore e al denominatore, facciamo un rapporto, poniamo la massa dell'ossigeno, noi, sapendo che sono in numero identico, è come se facessimo la divisione tra la massa di una molecola di cloro e una molecola di ossigeno. Bene, questo fatto, questa conoscenza ci ha permesso di confrontare, perché fare una divisione tra le masse significa confrontare le masse, esprimere la massa del cloro in rapporto alla massa dell'ossigeno. Basta mettere al denominatore la massa della sostanza che vogliamo scegliere come riferimento. Bene, questo è stato fatto dagli scienziati. in questo modo Stanislao Cannizzaro ha calcolato le masse relative degli atomi e degli elementi. Andiamo a pagina 67 dove vediamo, leggiamo, massa molecolare, molecolare. Per determinare la massa molecolare relativa, mm, sorvoliamo sul fatto che si usa anche l'addizione di peso molecolare. Facciamo la somma delle masse atomiche relative degli elementi che sono masse relative. Con questo strumento che si chiama spettrometro di massa sono state misurate le masse in modo assoluto, ma lasciamo stare adesso questo discorso delle masse assolute. Soffermiamoci sulle masse relative, colgo l'occasione per farvi notare che qui c'è un errore di stampa e c'è l'unità di massa atomica U è stata misurata e vale non 1,667 per 10 da meno 27 kg o meno 24 g, ma 1,666, U è 661, questo 7 non è un 7, è un 1. più in là nel libro verrà citato nuovamente e si troverà questo valore, quindi sarà quello, nelle pagine successive, il valore corretto. Bene, qual è la massa di riferimento che è stata scelta? Allora, in questa fotografia, nell'esempio che io ho illustrato prima, ponendo al denominatore la massa dell'ossigeno, della molecola di ossigeno, significava aver scelto come massa di riferimento l'ossigeno. Non è questa la decisione definitiva, la decisione definitiva è stata scelta, è caduta sull'atomo di carbonio 12, l'isotopo 12 del carbonio. Ora vedremo l'isotopo 12 del carbonio approfonditamente cosa significherà, però adesso noi diciamo che dei tanti elementi che esistono e che sono elencati in tavola periodica, il carbonio, l'elemento carbonio, un particolare isotopo dell'elemento carbonio, il carbonio 12 è stato scelto come riferimento. Ma attenzione, non la massa del carbonio 12, ma la dodicesima parte, un dodicesimo della massa di carbonio 12. Ed è stata assegnata a questa massa il valore dell'unità di massa atomica che è l'unità di misura il cui simbolo è U e che poi tecnologicamente con l'utilizzo dello spettrometro di massa del quale oggi in questo momento non descrivo il funzionamento è stata calcolata la massa in assoluta in chilogrammi, però Stanislao lavorò sulle masse relative, Canizzaro, sulle masse relative, successivamente sono state calcolate le masse assolute e la massa relativa, la massa assoluta di un U equivale a 6,661 per 10 alla meno 27 chilogrammi o alla meno 24 grammi. In tavola periodica troviamo i valori delle masse atomiche relative, per esempio idrogeno 1,008 che vuol dire che la massa di un atomo di idrogeno equivale a 1,008 volte la dodicesima parte del carbonio 12. Beriglio 9,0122 vuol dire che un atomo di beriglio ha una massa che equivale a 9 volte virgola 0,122 la massa della dodicesima parte del carbonio 12, il riferimento, la massa di riferimento è la dodicesima parte del carbonio 12. Se noi usiamo questi valori numerici, questi valori numerici senza unità di misura esprimono la massa relativa, cioè quello che ho detto, magnesio ha la massa relativa, massa atomica relativa, ma, di 24,305, cioè senza, usandolo senza unità di misura, indica quante volte è superiore alla dodicesima parte degli isotoporodici del carbonio. Primo modo di utilizzare le masse atomiche che troviamo in tavola periodica, senza unità di misura, e significa quello che ho detto. Secondo modo di utilizzare, prendo questo valore, 24,305, e utilizzo l'unità di misura U, e dico un atomo di magnesio, un atomo di magnesio, alla massa di 24,305 U. Questo lo possiamo dire perché in seguito con lo spettrometro di massa è stata calcolata la massa assoluta della dodicesima parte del carbonio 12, e quindi esprimiamo in U, ed è quel valore in 10 alla meno ventiquattressima grammi. Dove si trova? Eccolo qui che lo ingrandisco. Ok? 1,661, c'è l'errore, per 10 alla meno 27 kg. Ritorniamo in tavola periodica. Primo modo, andiamo sul magnesio o sul beriglio, qualunque. Primo modo di utilizzare questo valore numerico, senza unità di misura, esprime quante volte la massa di un atomo di beriglio, 9,0122 volte la massa della dodicesima parte del carbonio 12, secondo modo di utilizzarlo, con unità di misura U. Indica la massa assoluta di un atomo di beriglio, quindi 9,0122 U barra atomo, cioè ogni atomo ha questa massa in U. Terzo modo di utilizzare questo valore numerico è con unità di misura grammi mol, cioè non un atomo di beriglio, ma una mole di atomi di beriglio alla massa di 9,0122 g mol. E che vuol dire mol? Il numero che abbiamo già incontrato la prima volta, il numero di Avogadro. Qual è il numero di Avogadro? 6,022 per 10 alla ventitraesima. Una mol è il numero 6,022. per 10 elevato alla ventitraesima. Questo numero costituisce una molla. Costituisce una molla. Di che cosa? Di volta in volta, di particelle, di volta in volta il suo significato. Adesso se noi ci riferiamo al beriglio, bene, sono 9,0122 g mol, vuol dire che 9 grammi e 0,122 contengono 6,022 per 10 alla ventitraesima. Atomi di beriglio. E se io volessi una mole di atomi di boro, bene, devo pesare la massa, massare 10,81 grammi. E se io voglio una mole di atomi di ossigeno, bene, la massa da massare è 15,99 grammi, grammi mol. Voglio considerare la massa relativa dell'ossigeno, bene, è 15,99 grammi. Voglio considerare la massa di un atomo di ossigeno, bene, è 15,99 grammi. Unità di misura U. Voglio considerare la massa di...